Ben ritrovati e ben ritrovati, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e lasciate, se vi è piaciuto, al termine di questo video un bel like. Il giorno dopo Juventus Rieca 1-0, amichevole e decisa da Moise Ken, che ha lasciato questo test. Spunti interessanti, direi tutti appartenenti alla linea verde, da Riccio, Uizen, i subentrati. E' chiaro che questo test serviva esclusivamente per perfezionare la condizione atletica collettiva, però è importante anche che questi ragazzi riescano ad affacciarsi alla prima squadra tentando magari di scalare le gerarchie con i tempi giusti, perché essere giovani non è sinonimo di produttività per quanto riguarda il calcio dei grandi, ma sicuramente, e lo abbiamo già detto in tutte le salse, la Juve sul fronte al settore giovanile sta facendo un lavoro egregio. Max Allegri, al termine della partita, in mix, ha detto, chiaramente, come il DG Maurizio Scanarino, prima del test contro Rieca abbia parlato al gruppo squadra. E questo è un passaggio molto importante, perché non dico che stiamo sottovalutando questa figura, ma abbiamo sempre la sensazione che si stia parlando di un nome non mediatico e soprattutto di una persona interim. Ma non è detto che sia così, nella maniera più assoluta, in quanto Maurizio Scanarino, quando è successo il patatrack del CDA, quando si è dimesso in blocco l'ormai ex consiglio di amministrazione, ha subito ottenuto il ruolo, la carica di direttore generale. È stata la primissima mossa di John Elkan, quella successiva è stata avanzare la candidatura di Gianluca Ferrero in qualità di presidente, che verrà poi accolta con la nomina del nuovo consiglio di amministrazione il 18 gennaio. Quindi Scanavino, io vi ho raccontato nelle puntate precedenti, come a me risulti, che abbia intavolato una serie di colloqui individuali, con più figure del mondo Juventus, ed era normale che una certa parlasse anche al gruppo squadra, quindi all'allenatore, allo staff tecnico, ai calciatori. Questo passaggio è stato effettuato ieri, da quanto indagato è stato un discorso di pochissime parole, ma molto chiaro. Allegri ha detto Scanavino ha rasserenato il gruppo squadra, ed era proprio quello l'intento, nel senso non rappresentare un punto di discontinuità, bensì di continuità all'insegna della quotidianità, cioè la Juventus in formato Andrea Agnelli, Pavel Ned, Maurizio arriva bene, non cambia i suoi obiettivi, cambia le figure, ma poi il blasone della Juventus impone di fare una grande, un tentare, una grande rimonta in campionato, provare a vincere la Coppa Italia, provare a vincere l'Europa League, quindi Scanavino semplicemente ha spiegato che l'ambizione deve essere ai massimi livelli, e che quindi da questo punto di vista non cambia niente. È ovvio che la Juve cambia decisamente pelle da un punto di vista delle scrivanie, quindi dell'organigramma, sebbene al momento, anche qua, per quanto riguarda l'area sport, si va di continuità fino al termine della stagione, quindi con Federico Cherubini che è responsabile dell'area tecnica, e non sottovaluterei nemmeno la figura di Marco Stolari, che è molto vicino alla squadra, che è sempre alla continassa, e quindi può essere un punto di riferimento, soprattutto per magari i più giovani che si affacciano al mondo Juve, ed è importante avere anche quell'ex calciatore, che quando lo vedi non ti dico che ti debba mettere soggezione, ma che ti debba dare preziosi consigli, e possa rappresentare poi anche un abile manager. Ovvio, dobbiamo fare poi una sorta di tara, al termine della stagione capiremo chi farà ancora parte dell'area sport e chi no. C'è area di rivoluzione? Io credo che c'è area di cambiamento, credo che ci sia questo tipo di area, e soprattutto continuo a pensare personalmente, magari mi sbaglierò, che la figura di Cherubini sia estremamente traballante, ma non tanto per le sue qualità, non tanto per quanto è emerso da questa sorta di extracampo, perché se vogliamo anche dal tema intercettazioni Cherubini nesce bene, nesce come una persona settata sulle giuste frequenze, equilibrata, competente, riflessiva, quindi io credo che la stima del mondo Juve nei confronti di Cherubini rimane mutata. È ovvio che però, se vieni scelto da altre persone che non ci sono più, è difficile poi avere un certo tipo di longevità in un'azienda, ma questo è un discorso che vale per tutti i campi, non solo quello calcistico e non solo questo discorso si è rapportato a quanto accaduto recentemente al mondo Juve. Quindi io, là, qualche cambiamento me lo aspetto, si possono fare anche le cose con calma, nel senso, ora, si valuta la produttività da parte di tutti, perché credo che tutte le persone del mondo Juve siano sotto la lente di ingrandimento, è ovvio che quando c'è uno scossone così grande, le figure cosiddette più apicali sono quelle destinate magari ad uscire dall'azienda, ma ribadisco, credo che io stia raccontando l'ovvietà. E quindi Scanavino inizia a farsi conoscere anche a livello di gruppo squadra, dopo che ha iniziato a muovere i suoi passi alla continassa, quindi incontrando persone, credo anche in questo momento per Scanavino sia molto, molto importante ambientarsi in un campo per lui nuovo, perché noi, se parliamo di Maurizio Scanavino, parliamo anche della D e il DG del gruppo Gedi, quindi tutt'altro, no? Un altro ambito. Ma ora c'è bisogno davvero che tutti forniscano il loro contributo per creare i presupposti soprattutto di un buon progetto per il futuro, cioè questa seconda parte di stagione deve lasciare qualcosa. Sono fondamentali i risultati, perché la Juventus poi, sappiamo perfettamente come abbia un solo obiettivo, vincere in tutte le competizioni, però dopo un cambiamento così importante, lo definirei quasi epocale, questa seconda parte di stagione deve lasciare le basi per lo sviluppo dell'azienda Juve, quindi andare a lavorare sull'area sport e fare in modo che sia più competitiva, ma anche gli altri settori, che non dicono nulla ai tifosi, ma che invece nell'operato quotidiano sono fondamentali affinché lo stesso brand Juve, affinché la stessa azienda Juve sia sempre in evoluzione. Io sono molto curioso, ve lo dico sinceramente, perché quando c'è area di cambiamento e quando arrivano nuove persone e ci sono nuove ambizioni, c'è una nuova energia, se vogliamo anche normale che ciò accada dopo tantissimi anni con gli stessi volti, con le stesse figure che poi a un certo punto fisiologicamente più o meno devono fare un passo indietro proprio per creare una nuova azienda nell'azienda. E la figura di Scanavino sarà determinante, sarà importante innanzitutto perché è un uomo fidatissimo di John Elkan, che l'abbiamo detto più volte, anche questo, come prima mossa ha scelto di mettere il suo braccio destro, successivamente quello sinistro, Ferrero, per iniziare a risolvere l'extracampo, ma senza sottovalutare minimamente lo stesso rettangolo di gioco, perché è quello del settore mediatico ed è il settore poi trainante per il mondo bianco-nero. E quindi Scanavino alla squadra ha parlato e ha detto, riassunto degli assunti, gli obiettivi sono gli stessi, l'ambizione deve essere quella. Poche parole, ma buon intenditore.